Un'intera comunità in lutto per la scomparsa di Nicolo Ceile, il quindicenni di Mura di Molvena che martedì scorso insegla la sua moto Aprilia si è scontrato con una Subaru mentre stava rientrando da scuola l'istituto Scotton di Bassano sulla provinciale in zona Molvena nel comune di Colceresa. Da subito le sue condizioni sono parse così gravi da farlo trasportare con l'elicottero del suo M118 verso l'ospedale San Bortolo di Vicenza, veglie di preghiera per lui e la speranza fino all'ultimo che il ragazzo potesse farcela. Chi lo conosceva lo descrive come una persona generosa e dal sorriso dolce, i compagni di classe sconvolti gli hanno dedicato anche un cartellone con la scritta Prima T rimarrai sempre nei nostri cuori. Nicolò faceva parte anche del Veloclub di Nove dove praticava il ciclismo a livello agonistico, intanto i genitori hanno autorizzato l'espianto di organi in un gesto di generosità infinita che sa andare oltre il dolore.